Buongiorno, oggi siamo qui presso il Palazzo del Governatore di Cento per il dibattito sul referendum costituzionale, il no e il sì a confronto. Per rappresentare il no abbiamo qui l'ex senatore Rossi e per rappresentare il sì abbiamo qui Martia Franceschelli. Bene, allora comincerai subito, avranno due minuti a disposizione per darci le loro ragioni. Inizierà il signor Rossi. Prego, parta. Bene, noi siamo per il no perché la controriforma non è utile al Paese, perché sottrae potere ai cittadini che in base alla Costituzione dovrebbero essere sovrani, perché crea ulteriore confusione nel rapporto tra la Camera e il Senato e perché tutte le motivazioni per le quali si dice è stata fatta non sono vere. Primo, non risolve il problema del bicameralismo. Era sufficiente, se questo era l'obiettivo, fare una sola Camera e si risparmiava anche soldi, visto che l'altro obiettivo era risparmiare soldi. Non è vero l'altra argomentazione dei tempi più ridotti, perché già adesso i tempi delle leggi sono dall'un mese all'un mese e mezzo, quindi è nei tempi minore rispetto alla media europea. Quindi la situazione è tutt'altro di quella che viene descritta da Verdini, Boschi e Renzi. Per questo un no, un no che tenga aperta la strada per cambiare questo Paese verso più potere per gli organi democratici e non per meno potere. Io sì, dipende come votano. Benissimo, ora invece sentiremo le ragioni del sì. Sì, questa è una riforma molto importante, attesa da molti anni nel nostro Paese, da circa 30 anni, che si parla di superare il bicameralismo perfetto e non si è mai fatto. Noi siamo praticamente l'unico Paese al mondo, forse insieme alla Romania, ad avere due Camere che fanno le stesse cose, hanno gli stessi poteri e spesso lo stesso sistema elettorale. È ora di cambiare e di realizzare quello che già i padri costituenti avevano auspicato sin dall'inizio, una Camera eletta dai cittadini che rappresenta il popolo e una Camera che rappresenta le regioni e gli enti territoriali. Questo era già l'auspicio dell'Assemblea Costituente, non è stato realizzato sin dall'inizio per il semplice motivo che le regioni statunque ordinarie sono state istituite vent'anni più tardi. Quando sono state istituite si è commesso il peccato, possiamo dire che era originale, di non accompagnare questa riforma all'istituzione del Senato e delle regioni, perché faceva comodo alla democrazia cristiana che governava i vari partiti dell'epoca e si è protratta una situazione che doveva essere temporanea e invece ce la portiamo ancora dietro. Quindi superamento del bicameralismo perfetto, revisione dei rapporti Stato-Regioni per eliminare il contenzioso che intasa i lavori della Corte Costituzionale e anche rivitalizzare una serie di istituti di partecipazione democratica come il referendum abrogativo, le proposte di legge di iniziativa popolare e così via, rafforza i sistemi di garanzia e contrapesi, aumenta le maggioranze per eleggere il Presidente della Repubblica, realizza la possibilità che la Corte Costituzionale esamine la legge elettorale prima che entra in vigore. L'abolizione delle province, del CNEL e una serie di cose che ormai hanno già finito il tempo. Benissimo, io vi ringrazio tantissimo per il brevissimo riassunto e bene, quindi invitiamo la cittadinanza a votare il 4 dicembre.